Ciao a tutti e benvenuti su MyFootballJersey. Io sono Stefano e oggi vi presento la seconda maglia del Manchester United per la stagione 21-22 nella versione player, quella cioè indossata dai calciatori. Ci sono maglie che sono destinate a rimanere per sempre nella storia di una squadra. Divise anticonformiste che rompono gli schemi. È sicuramente questo il caso della maglia Away del Manchester United indossata dal 1990 al 1992. Una casacca unica passata alla storia come la maglia a fiocchi di neve, proprio per via della particolare forma della grafica presente sulla divisa. Una maglia che inizialmente fece storcere il naso non solo per lo strano pattern ma soprattutto a causa dell'invandente presenza dello sky blu, un colore fin troppo simile a quello delle divise dei rivali concittadini del Manchester City. In occasione del trentesimo anniversario della stagione in cui quella casacca venne indossata per l'ultima volta, Aridas, attuale sponsor tecnico dei Red Devils e ideatrice della storica maglia, ha deciso di richiamare quell'iconico kit per la nuova divisa Away 2021-22. Sparisce il tanto agognato pattern a fiocchi di neve. Al suo posto figura una trama geometrica più moderna che offre un effetto jeans ma che comunque è ispirata al celebre design della seconda divisa degli anni 90. Cosa ne pensate della maglia? Dal vivo devo dirvi che è più bella di quanto pensassi. Nella mia classifica questa prende 4 stelle, peraltro veramente fatta molto bene ed è incredibile al costo in cui si trova sul sul sito che trovate peraltro in descrizione. Ora prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete la vestibilità, se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto ci vediamo alla prossima ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg quella che vedete è una taglia large della versione player o authentic quella indossata dai calciatori.